Grazie a tutti. Il professor Mirri, che non conoscevo personalmente, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere ieri sera, è stato professore ordinario di filosofia teoretica nell'Università di Perugia, dove ha insegnato anche storia della filosofia moderna e contemporanea e filosofia morale, e preside, pensate, per 17 anni della facoltà di magistero, dove ha guidato la difficile trasformazione in facoltà di scienza della formazione. Quindi ho una persona, uno studioso che è sempre stato a contatto con gli studenti, poi come scienza della formazione, professore, lei prendeva gli studenti come i nostri, no? 18-19 anni che uscivano dalla scuola superiore e cominciavano il percorso universitario. Allora, prof, l'argomento che lei affronta è un argomento per noi difficilissimo. Lei tenga presente una cosa, che io sono come i miei studenti, nel senso che non abbiamo studiato filosofia, siamo digiuni di questi argomenti e io, parlo per me ovviamente, io mi auguro che lei riesca a tradurre i suoi pensieri in modo tale che anche il presso Lorenzo riesca a capire. Grazie. Allora, accogliendo l'invito del preside, parlerò soprattutto direttamente, scusandomi con gli altri, ai giovani che vedo qui tanto numerosi e con i quali appunto una certa familiarità in fondo l'ho avuta per tanti anni sia nell'Università di Perugia sia prima ancora in un istituto tecnico, insegnando in un istituto tecnico a Cortona e quindi, come dire, spero proprio di farmi ascoltare e comprendere soprattutto da loro. Allora, quando mi telefonò il professore Vertucci a nome della scuola per invitarmi a tenere questa relazione, beh, io lì per lì accettai con entusiasmo, anche perché il professore Vertucci mi è particolarmente caro, è stato mio discepolo all'Università di Perugia. E quindi accettai con entusiasmo, certamente parlerò di questo argomento, il bello, credevo di avere così molti argomenti eventualmente da dire, troppi, quando poi Vertucci mi comunicò che avrei avuto venti minuti di tempo a disposizione, sono entrato in crisi. Perché in venti minuti è difficile svolgere un tema come questo, così complesso. E allora di qui nasce anche una preghiera al Preside. Preside, io cerco di stare nei venti minuti, eventualmente, se dovessi abusare della pazienza degli uditori, lei avrà la bontà di chiamarmi. Staccherò il microfono, il collegamento per cui... Ecco, benissimo, benissimo. Allora, vi dicevo che la cosa è nata da una telefonata che a nome della scuola mi ha fatto il professor Vertucci. Parlare del bello. Ma certo, uno che fa professione di filosofia come me, sente dire parla del bello, il pensiero gli corre subito ai dialoghi di Platone. Perché fra questi dialoghi di Platone ce n'è uno, è intitolato Ippia Maggiore, ma è soltanto un nome di un sofista, questo Ippia. Ce n'è uno, l'Ippia Maggiore, che tratta appunto del bello. Allora dico, benissimo, comincio subito da quello. E anche con voi comincio un momentino da quello, rapidissimamente. Si incontrano Socrate con questo sofista e nasce la conversazione sul bello. Ippia, tu che sei tanto saggio, che sei sapiente, eccetera, dimmi tu che cos'è il bello. E Ippia comincia a indicare una serie di cose belle, guardate ad opere una parola a cui tengo in questo momento, a fare una enumerazione di cose belle. Bella è una bella ragazza, certo sì, ma Socrate lo smonta subito, non è soltanto una bella ragazza, Dio mio, perché soltanto una bella ragazza? No, no, per esempio anche una bella cavalla. Ma sì, certo, anche una bella cavalla, ma perché soltanto delle cose animate? Ma bella è anche una bella pentola. Platone continua a scherzare su queste risposte che Ippia dà, anche i filosofi scherzano, continua a scherzare per un pezzo. Socrate smonta sempre tutte quante le sue argomentazioni. Bello è l'oro, secondo Ippia, bello è l'oro, perché quello che tocca rende prezioso. Eh sì, ma perché soltanto l'oro? Ci sono tanti metalli preziosi e non soltanto metalli. Allora bello è una vita comoda, una vita raggiata. Bello è morire circondato dagli onori e così via. Ippia ti accorgi che tu mi parli di cose belle e non mi dici che cosa è il bello. E perché le cose belle sono belle. Questo dialogo, come tutti i dialoghi cosiddetti del periodo socratico, finisce all'improvviso. Ma Socrate, ma tu hai voglia di scherzare, di perdere tempo? Io non ho da perdere tempo con te. Non perdiamo tempo con i filosofi. E Ippia se ne va. Ma che cosa volevo trarne da questo racconto dell'Ippia Maggiore? Che l'enumerazione di cose belle non indica la bellezza in sé. Non indica che cos'è la bellezza. E perché le cose belle sono belle. Ma in questo dialogo avviene un fatto curioso. Avviene un fatto curioso che è appena appena celato in un passaggio rapidissimo. Cioè che ad un certo momento, durante queste enumerazioni successive e tutte vane, Ippia tira avanti un'osservazione, come dire, definitoria. Porta avanti una definizione. Ecco, guardate. Proprio buttata là, eh? Bello, dice. Un oggetto bello è quello le cui parti sono convenienti fra di loro e convenienti con il tutto, con l'insieme. La convenienza delle parti tra di loro e rispetto all'insieme. Questo è un tentativo di definire la bellezza. Cioè quando in una cosa, in un oggetto, non c'è niente che sopravanzi gli altri, le altre parti. E questo, guardate, che non si riferisce soltanto agli oggetti, ma si può riferire, per esempio, anche a un qualunque consorzio umano, dove nessuno sopravanza gli altri. Ogni cosa si rapporta, ogni particolare si rapporta agli altri particolari. e si rapporta all'insieme, al tutto. Ecco, questo oggetto poi, questa argomentazione, nell'impia maggiore è lasciata cadere subito. Però, nella tradizione filosofica della meditazione sul bello, ha avuto un'importanza enorme. Cioè quando si è cominciato a pensare che l'armonia delle parti fra di loro e con il tutto sia questa l'essenza del bello. L'armonia. Non voglio fare cose. Vuol dire che ogni parte, ogni singolo, si rapporta a tutte le altre parti e si rapporta all'insieme di cui con le altre parti fa parte. è una definizione che ha avuto molta fortuna nella tradizione filosofica. Io vi cito soltanto Cicerone e vi cito Sant'Agostino che riprendono tale e quale, senza saperlo, che riprendono tale e quale la definizione di Platone nell'Ipio Maggiore. Cicerone, non ve lo dico in latino, ve lo dico in italiano, che così ci intendiamo subito meglio, dice che la bellezza è quando la figura delle membra, Cicerone sta pensando alle statue greche, quando l'aspetto delle membra è conveniente tra le singole membra e con il loro colore. Guardate un fatto curioso, con il loro colore. È un indizio chiaro che le statue greche a cui Cicerone si riferisce erano colorate. Noi siamo abituati a vederle nella bianchezza del marmo e le apprezziamo nella bellezza, nella bianchezza del marmo. No, erano colorate. Questa ne è una testimonianza. Anche Agostino, in fondo, dice la stessa cosa. È la convenienza delle parti. Allora, è una definizione del bello, è un'indicazione dell'essenza del bello che ha avuto grandissima tradizione. Qui ci sono degli architetti insignissimi e loro sanno, molto meglio di me, centomila volte meglio di me, che per esempio nell'architettura classica i rapporti tra le misure essenziali sono costanti. È quello che si dice la sezione aurea. Cioè il rapporto della sezione aurea, io non capisco niente di matematica, ma è la proporzione che esiste tra i cateti di un triangolo rettangolo e la loro proiezione sull'ipotenusa e la lunghezza stessa dell'ipotenusa. Secondo questo rapporto, che è un rapporto bellissimo, secondo questo rapporto, per esempio, è costruito tutto il partenone. Tutte le misure del partenone sono misurate sulla sezione aurea. Su questo rapporto della sezione aurea sono misurate la più gran parte, sono costruite la più gran parte delle misure delle vostre ville, magnifiche ville venete. Secondo l'ansia... È vero, professor Portoghesi? Palladio usava i rapporti semplici, però qualche volta c'è ricordato c'è la sezione aurea. Secondo questo rapporto della sezione aurea, è costruita, per esempio, la chiesa della Madeleine a Parigi. Insomma, la bellezza di questi edifici in gran parte dipende dalla armonia delle misure. L'armonia delle misure. Ecco, è questa una definizione valida. Vi parlavo delle vostre ville venete, allora lasciate che vi citi anche una cosa della mia patria, della provincia di Arezzo. Lasciate che vi faccia il nome di un matematico, di un grande matematico aritino, anzi veramente di Borgo Sansepolcro, Luca Pacioli, che ha scritto proprio sulla sezione aurea e la chiamava la Divina Proporzione. E lui indicava il Pacioli come secondo la Divina Proporzione è costruita la più gran parte delle opere d'arte. L'armonia. L'armonia delle forme. Questo è il segreto primo della bellezza. Come vi dicevo, soprattutto questo concetto è nato sulla considerazione della scultura greca. da noi questo concetto, questo criterio della bellezza come armonia è stato ripreso, per esempio, dal Canova. Tutte le opere del Canova sono costruite su questo ideale dell'armonia. non sto a citare nulla perché sono troppo troppo celebri queste cose del Canova, queste creazioni del Canova, ma certo si resta incantati di fronte alla bellezza di questi corpi armonici che egli ha scolpito, di queste cose armoniche che ha lo splendido boccale che tiene in mano la ebe, anche gli oggetti, sempre le forme sono armoniche. Però, forse, parlando del Canova, si scorge anche quello che è, come dire, il limite di questa identificazione della bellezza con l'armonia delle forme e delle misure, se ne scopre il limite perché, vedete, con questo concetto dell'armonia il Canova, parlo ancora di lui, il Canova ha creato la magnifica statua di Paulina Borghese e Giacente, eh? Andate nella Galleria Borghese a Roma a vedere questo grande capolavoro d'arte. Paolina che è un ideale di bellezza femminile, indubbiamente, è un ideale di bellezza femminile, ma, 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 ma è un ideale astratto. Non è reale perché Paolina non era in quel modo. Paolina, fra l'altro, era molto spiritosa e quindi si faceva apprezzare per quello, ma, ma come bellezza corporea non era poi una venere. Quell'ideale è venere, non, non, Paolina Borghese, ancora meglio, ancora meglio, guardate, sempre riferendomi al Canova, ha dipinto, sì, domani, ha rappresentato un Napoleone che, se voi l'andate a vedere, è un Marte, o è un Giove, che so io, no, ma soprattutto è un Marte, una figura slanciata, alta, con un lungo scettro in mano, eccetera, con un panneggio, con una toga panneggiata splendida, eh, bellissimo, ma non reale, Napoleone era piccino, era tripputo, eh, era un pochino gobbo. Allora, l'ideale creato dall'armonia come idea sicuramente è valida, ma come realtà è un mito. Paolina Borghese o il Napoleone del Canova sono due miti, non sono due realtà. Quindi, questo di essere ideale astratto, mito, professore, sto adottando prendo troppo? Vengo subito alla conclusione. Quanto chiediamo ancora? Eh? Perché quanto sta dicendo è affascinante, vedo anche l'attenzione della stragrande maggioranza degli studenti. Adesso ci ha incuriosito, prof. Vengo subito alla conclusione, anche perché adesso ci ha demolito Paolina Buonaparte, ha demolito Napoleone e vediamo chi salva. non è la mia intenzione demolire Napoleone, per carità. No, in questo modo è molto più vicino a noi. Sì, sì, sì. Vengo subito alla conclusione per non approfittare troppo della vostra pazienza. Scusate ragazzi, un attimo solo ancora. Solo un attimo, sì. Nel indicarvi il limite del concetto di bellezza come armonia delle parti, il mio intento voleva indicare poi oltre quel limite qual è un concetto che diciamo va esente da questo limite. È il concetto della bellezza come ascesa dell'anima alla dimensione del divino, alla dimensione divina, come ascensione dell'animo a Dio. La bellezza come annuncio il titolo forse difficile della mia conferenza diceva epifania, manifestazione. come manifestazione della presenza di Dio. Le cose manifestano e quasi invitano a una contemplazione di esse come appunto come manifestazione del divino, come manifestazione di Dio. È il concetto della bellezza che anima tutto quanto il francescanesimo. È un concetto della bellezza che per esempio anima tutto il cantico delle creature di San Francesco. Laudato sia il Signore per tutti gli aspetti della vita, per tutti gli aspetti della natura. Laudato nel sole, nella luna, nelle stelle, sì, che tutti ammirano, ma anche nel vento, nell'acqua, anche nella tempesta di ieri. Nel vento, nell'acqua, nel fuoco, nella morte. Nella crisi. Nella crisi. Questo concetto della bellezza delle cose come invito ad ascendere dalle cose stesse a Dio, vi dicevo, appunto, è il tipico concetto francescano. Ora, io ho avuto un grande beneficio da parte del vostro preside, che ringrazio ancora una volta, perché mi ha dato occasione, questa seconda parte, di svolgerla a parte domani mattina, se non vado errato, è vero? Quindi, posso chiudere qui questa mia ciaccherata, scusate la presentazione che ve ne ho dato, chiudo qui questa mia ciaccherata, sapendo di aver svolto una metà del discorso, ma l'altra metà l'ascolterete, se avete pazienza, domani mattina. Grazie. Grande, grande questo professore, vero? Bravissimo, complimenti, grazie prof. L'ho capito anch'io quello che ha detto. quindi,